Il nostro ufficio ha centinaia di contatti, pizzerie, trattorie, ristoranti, bar, caffetterie, hotel e anche alcuni stand di alcuni mercati molto famosi di Londra. I requisiti per lavorare a Londra sono soprattutto la determinazione, voglia di lavorare, serietà e soprattutto la puntualità. A Londra lavorano veramente tutti, anche senza inglese, anche se si parte da una posizione più bassa, tra virgolette, ma poi si può aspirare a qualcosa di più grande, migliorando l'inglese e poi alla fine si viene a Londra anche per migliorare la lingua. La documentazione essenziale è il National Insurance Number, è un numero, un codice che serve a Londra per lavorare, contembanca inglese di cui io fornirò tutte le informazioni necessarie per aprirlo, una scheda inglese che forniremo noi direttamente al giorno dell'arrivo a Londra. Quando io inserisco i ragazzi in lista, nella lista dei colloqui giornaliera, la maggior parte delle volte i ragazzi cominciano a lavorare subito o dopo qualche giorno, però dopo pochissimo tempo veramente. Normalmente ai ragazzi vengono proposti dei contratti a lungo termine e poi nel momento in cui si vuole lasciare il lavoro, una settimana di preavviso e il lavoro si può cambiare. Se un cliente perde il lavoro non succede assolutamente niente, l'importante è rimettersi in lista perché il nostro ufficio funziona con un sistema di lista giornaliero, quindi l'unica cosa è chiamare in ufficio, io inserisco il nome in lista e i ragazzi verranno richiamati il giorno stesso e avranno un altro colloquio. A Londra ci sono tantissime possibilità di crescita, l'offerta di lavoro è sempre alta. A Londra ci sono tantissime possibilità di crescita, l'offerta di lavoro è sempre più alta.